sempre più giù nella classifica sulla qualità della vita stilata dal sole 24 ore la nostra città scende l'ottantasesimo posto tra le note dolenti la mancanza di sicurezza bari capitale dello sport per la prima volta domani in città la giunta territoriale del coni il presidente malagò oggi a bari per le benemerenze sportive domani sarà anche a barletta per l'inaugurazione della pista dedicata a mennea è stata una donna dopo il servizio delle iene riflettori puntati sulla presunta autrice dell'insulto sessista rivolto alla consigliera comunale irma melini le reazioni a palazzo di città le strade di san nicola si rinnova l'appuntamento all'insegna della solidarietà organizzato da una rete di associazioni locali l'edizione 2017 tutta da ridere buonasera ben ritrovati all'appuntamento con il nostro tg serale in diretta su telebari partiamo subito da bari è l'ottantaseiesima città italiana per qualità della vita certificarlo è la classifica del sole 24 ore che ogni anno mette in fila i centri dello stivale seguendo i parametri di ricchezza e consumi lavoro innovazione ambiente servizi demografia e società giustizia e sicurezza cultura e tempo libero con 419 punti accumulati bari si piazza tra crotone dove si vivrebbe leggermente meglio e frosinone rispetto al 2016 il capoluogo pugliese perde 12 punti e una posizione in classifica due passi indietro sono stati compiuti sul piano dei consumi uno sul lavoro e cinque sotto l'aspetto della sicurezza mentre un deciso balzo in avanti è stato fatto sotto l'aspetto dei servizi torniamo a parlare della vicenda degli insulti sessisti rivolti alla consigliera di opposizione irma melini la nota trasmissione televisiva le iene si occupa di quanto accaduto proprio in consiglio comunale lo scorso 14 novembre con l'ausilio di una grafologa e individua una donna in una donna la responsabile vediamo come la notizia è stata accolta a palazzo l'aperizia grafica commissionata dalla trasmissione televisiva le iene seppur priva di alcuna valenza giuridica scatena reazioni a palazzo di città in particolar modo tra le donne indicate dall'esperta tra le probabili responsabili alessandra naclerio anita mauro di noia e francesca contursi le tre consigliere presenti al momento della discussa votazione e le prime due contattate telefonicamente dalla nota trasmissione scelgono di controbattere anche se in modi diametralmente opposti alessandra naclerio chiede di parlare con i giornalisti e visibilmente provata si dichiara pronta a sottoporsi ad una nuova perizia volontaria a seguito del servizio che abbiamo visto ieri su una rete nazionale mi sono sentita particolarmente offesa perché non come possibile colpevole di un gesto così schifoso scusatemi il termine ma perché diciamo che senza una giusta senza delle giuste fondamenta il cerchio si sta stringendo intorno alla figura femminile completamente un altro stile per anita mauro di noia capogruppo di sud al centro iniziativa democratica che convoca una conferenza stampa la presenza di un avvocato mi ritengo estranea quanto accaduto dichiara mauro di noia che però rifiuta ulteriori analisi che non siano quelle disposte dalla magistratura stiamo valutando aggiunge se chiedere di essere ascoltati dal magistrato sono qui per dirvi che è per rivolgere anche voglio dire un invito alla consigliera melini spero che lei non abbia creduto a ciò che ieri è stato detto alle iene lo dico in tutta tranquillità perché io sono abbastanza tranquilla e sicura tra l'altro ho anche degli elementi che dimostrano la mia estraneità che ovviamente con l'avvocato riferirò poi al pubblico ministero credo a breve poi sarà l'avvocato a decidere diciamo i tempi intanto salgono a nuova i consiglieri che hanno aderito all'appello del presidente del consiglio comunale Pasquale Dirella a sottoporsi a perizia volontaria domani pomeriggio l'incontro che sia una donna peggio per me da donna è molto più avvilente rimane il tema sessista perché non ha usato un altro epiteto ha usato quello perché sapeva di creare anche forse ilarità in qualcuno e invece così non è perché siamo nel consiglio comunale di Bari e forse a iniziare dai giornalisti a finire a chi ha un po' di orgoglio c'è qualcuno che sta evidenziando che non è questo il modo di fare politica di rappresentare gli altri 100 mila euro dalla regione Puglia per l'editoria locale si privilegia chi assume giornalisti nella seduta congiunta delle commissioni consigliari industria e lavoro è stata approvata maggioranza con l'astenzione del movimento 5 stelle la normativa per la promozione e sostegno al pluralismo e all'innovazione dell'informazione della comunicazione regionale la regione si impegna a promuovere e sostenere tutti i progetti che esercitano con sedi operative in Puglia l'attività di editoria quotidiana e periodica si legge in una nota finalizzata l'informazione e la comunicazione locale privilegiando tra l'altro gli interventi di assunzione stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico e le iniziative di formazione e qualificazione professionali degli operatori del settore il testo originale precisa ancora la nota è stato modificato anche in base alle sollecitazioni dei destinatari del provvedimento auditi nella scorsa seduta della commissione waterfront accademia di belle arti e il pollo della giustizia sono solo alcuni dei progetti a cui saranno destinati di oltre 60 milioni di euro provenienti dalla convenzione con la città metropolitana questo pomeriggio il consiglio comunale ha approvato l'accordo che metterà a disposizione del comune fondi derivanti dal patto per lo sviluppo della città metropolitana segleato con il governo che ha previsto un finanziamento complessivo per l'area metropolitana di Bari di 230 milioni di euro in particolare 16 milioni di euro andranno al progetto di riqualificazione del waterfront di Bari 300 mila euro per il polo della giustizia 18 invece i milioni destinati alla nuova sede dell'accademia di belle arti saranno finanziati anche molti progetti legati all'innovazione come la pubblica illuminazione intelligente o l'agenda digitale metropolitana il ministro dell'interno marco miniti è venuto ieri a Bari per la proiezione del docufilm di giuliano foschini su benedetto petrone vediamo la democrazia non può fare a meno di ricercare la verità a dirlo è il ministro dell'interno marco miniti ospite d'onore per la proiezione del documentario firmato dal giornalista di repubblica giuliano foschini su benedetto petrone il 28 novembre si celebra l'anniversario della morte del giovane militante comunista vittima di un agguato fascista a Bari nel lontano 1977 40 anni dopo si riaprono gli interrogativi giuseppe piccolo uno dei facenti parte della squadra fascista fu condannato a 22 anni di carcere mentre per gli altri sette imputati il giudice ravvisò il solo favoreggiamento nessuno si prese la responsabilità politica di quanto avvenuto e così lo stesso miniti conferma l'importanza di fare luce sulle zone d'ombra della nostra storia raccogliendo l'invito lanciato dal documentario attraverso le voci di forze a petrone sorella di benedetto franco intranò arturo cucciolla e michele la forgia a vario titolo testimoni di questa vicenda il ministro poi dichiarato che l'antifascismo era e sarà un valore fondativo della democrazia italiana all'esterno del teatro petruzzelli intanto un gruppo di rappresentanti della sinistra radicale ha protestato nei confronti dello stesso ministro sempre solo fac leucemia arriva a Bari la campagna lanciata da pleti onlus i cui proventi saranno destinati alla realizzazione dello spazio oltre op pensato per offrire supporto psicosociale a bambini adolescenti oncologici e alle loro famiglie per contribuire al progetto con una donazione minima di 10 euro si potrà acquistare la t-shirt fac leucemia la campagna è stata presentata a Bari questo pomeriggio a palazzo di città ho voluto incontrare etan e fabio piccoli guerrieri della vita per testimoniare loro il mio sostegno a questa iniziativa dichiarato il sindaco Antonio De Caro credo sia una causa importante da promuovere e sostenere tutti insieme perché esiste una dimensione legata a un necessario e delicato recupero della normalità in tutti gli ambiti della vita nella scuola nella famiglia nelle relazioni con i loro coetane e torna al teatro Petruzzelli lo spettacolo di solidarietà le strade di San Nicola edizione tutta smile questa del 2017 100.000 euro raccolti in soli 5 anni tantissimi progetti finanziati ma le associazioni baresi impegnate nella solidarietà non si fermano e per il quarto anno tornano a calcare il palco del teatro Petruzzelli con lo spettacolo di beneficenza le strade di San Nicola appuntamento fisso ormai per il capologo pugliese per i suoi cittadini un ritorno in grande stile ma con una formula riveduta e corretta edizione speciale smile avrà un taglio diverso rispetto al passato e il 18 dicembre sarà condotta da Mauro Pulpito e Barbara Cirillo che si alterneranno con la Limban Band, Pino e gli Anticorpi, Chico Paglionico, Dino Paradiso e tanti altri a illustrare i progetti questa mattina su cui si lavorerà il presidente della fondazione Lorenzo Moretti quattro in totale si parte con un piatto per tutti l'iniziativa che porterà l'acquisto di 5.000 chili di pasta destinate ad istituti minorili e a mense per i poveri con Ciao Vita il progetto promosso dalla fondazione Ciao Vini Onlus ci si occuperà della formazione di circa 2.000 cittadini che impareranno a saper riconoscere e a trattare un arresto cardiaco e ancora con mai un fuorigioco proposto dall'ASD intesa sport club si prevede il recupero di 30 ragazzi che vivono in situazioni di disagio con la bottega dell'inclusione della creatività e infine laboratori artigianali e artistici per l'attivazione di percorsi creativi ed inclusivi attraverso il riuso creativo dei materiali il progetto è in rete con l'assessorata al welfare del comune di Bari il presidente del CONI Giovanni Malago in Puglia per omaggiare lo sport pugliese domani la prima giunta territoriale della storia nella nostra regione a Barletta invece l'inaugurazione della pista di atletica leggera Pietro Menea sentite che cosa ha detto questa sera non si parla di finanza si parla di stelle esatto questo è sicuro questo è un luogo di valori lo sport è valore e oggi ho fatto una bellissima giornata in Puglia siamo partiti da da mesagna dove c'è un'eccellenza assoluta del taekwondo questa meravigliosa palestra come si chiama? New Marche esatto da dove è nata poi la favola di Carlo Molfetta medaglia d'oro individuale di questa regione e ho un incontro con dei ragazzi che aspirano a poter entrare in un liceo sportivo abbiamo parlato di impianti a Politecnico domani facciamo giunta da 103 anni il CONI che è stato fondato non era mai venuto in Puglia penso che questo per questa regione sia tanto assolutamente e poi andiamo a Barletta a rendere omaggio al più grande di tutti insomma a Pietro Menea e insomma a quella pista dove è partita la sua leggenda il CONI l'ha rifinanziato con sport e periferie credo che sia un bel segnale non solo simbolico breve pausa pubblicitaria ma ci ritroviamo tra pochissimo con altre notizie Rieccoci in diretta per altre notizie della nostra edizione serale del telegiornale Bari è l'ottantasesima città italiana per qualità della vita a certificarlo e la classifica del sole 24 ore che ogni anno mette in fila i centri dello stivale seguendo i parametri di ricchezza e consumi lavoro innovazione ambiente servizi demografie società giustizia e sicurezza cultura e tempo libero con 419 punti accumulati Bari si piazza tra Crotone dove si vivrebbe leggermente meglio e Frosinone rispetto al 2016 il capoluogo pugliese perde 12 punti una posizione in classifica due passi indietro sono stati compiuti sul piano dei consumi uno sul lavoro e cinque sotto l'aspetto della sicurezza mentre un deciso balzo in avanti è stato fatto sotto l'aspetto dei servizi e siamo alla cronaca 18 rapine in due mesi in manette il 38enne barese Roberto De Giglio l'elenco delle rapine messe a segno in cui l'uomo avrebbe sottratto denaro per un totale di circa 15 mila euro è davvero molto lungo si sarebbero consumate nei pressi di Torre Mare tra novembre e dicembre del 2016 nel mirino del rapinatore erano finite diverse attività farmacie supermercati tabaccherie bar pizzerie punti fast food ambulanti e diversi esercizi commerciali l'arrestato secondo quanto accertato dalle indagini agiva da solo armato di pistola o di coltello e sempre con il volto parzialmente travisato con sciarpa e cappuccio della felpa o con il casco agenti della polizia locale provenienti da tutta Italia protestano a Bari chiedono ad Antonio De Caro in qualità di presidente Anci di farsi portavoce delle loro istanze sentiamo un verbale di contestazione destinato ad Antonio De Caro in qualità di presidente Anci agenti della polizia locale provenienti da tutta Italia la richiesta portare avanti una riforma ferma in Parlamento da 30 anni hanno scelto Bari gli operatori della PL aderenti al Sulpl una folta rappresentanza per gli oltre 60 mila lavoratori presenti in tutta Italia la manifestazione nazionale ha come primo e fondamentale nodo quello dell'inquadramento contrattuale gli operatori delle polizie locali sono infatti equiparati in tutto e per tutto a dipendenti amministrativi dei comuni senza il riconoscimento della categoria dei lavori usuranti a questo si aggiunge il contratto collettivo nazionale che aspetta un rinnovo dal 2009 oltre alla possibilità di abolizione dell'articolo 24 che riconosce come straordinario le ore prestate durante le 11 festività annuali così indossando uniformi e abiti di servizio hanno manifestato dal Castello Svevo fino a Piazza Libertà dove una delegazione ha incontrato il presidente Anci Antonio De Caro protestiamo contro l'Anci, contro la nostra associazione chiedendo un aiuto importante alla associazione per vedere riconosciuti quelli che sono i nostri diritti siamo sempre più impegnati nel controllo del territorio, nel compito di sicurezza vedisi anche il decreto Miniti chiediamo che l'Anci prenda posizione su questo arriviamo da Milano e dalla Lombardia e siamo arrivati qui a Bari per chiedere al presidente dell'Anci nonché sindaco della città di Bari di farsi parte del dirigente presso il governo e portare le nostre istanze ci sentiamo considerati i figli di un dio minore siamo trattati da agenti di polizia a tutti gli effetti però da un punto di vista previdenziale e contrattuale siamo considerati degli amministrativi e Antonio De Caro si è impegnato a farsi promotore delle richieste degli operatori delle polizie locali continueremo a spingere perché già entro la fine di questa legislatura ci siano degli interventi spingeremo per un pacchetto di modifica al decreto sicurezza urbana del ministro Miniti Carta d'identità europea per l'Istituto Superiore Rosa Luxemburg di Acqua Viva delle Fonti dal 19 al 25 novembre l'Istituto ha ospitato il progetto Erasmus più CGL as a Bridge to Real Life English Conoscere procedure, comportamenti e consuetudine dei paesi europei attraverso le diverse metodologie didattiche è l'obiettivo delle attività progettuali di apprendimento, insegnamento e formazione legate al progetto Erasmus Plus CGL as a Bridge to Real Life English la metodologia CGL è il nuovo sistema di apprendimento di contenuti disciplinari insegnati in lingua straniera e necessita di percorsi e interventi didattici personalizzati per una settimana docenti e studenti provenienti da Slovenia, Bulgaria, Polonia, Turchia, Grecia e Spagna ospiti dell'Istituto Rosa Luxemburg di Acqua Viva delle Fonti hanno portato a confronto diversità storiche, artistiche, culturali, linguistiche che caratterizzano i loro paesi di provenienza e costituiscono per l'Europa un elemento di ricchezza culturale inestimabile l'esperienza di internazionalizzazione dell'Istituto e il consolidamento dei rapporti tra i paesi creano oggi le premesse per la realizzazione di futuri scambi culturali volti a rafforzare le competenze linguistiche oltre ad essere un'importante occasione di crescita come spiega il dirigente scolastico Francesco Scaramuzzi Noi stiamo facendo una scommessa la possibilità che attraverso questi strumenti didattici e questi incontri sia possibile trovare un accordo, un incontro tra tante modalità e tanti punti di vista diversi per costruire un'unica nazione continentale La Bosch di Bari premia i figli dei dipendenti pomeriggio di allenamento per il futuro per i ragazzi che il prossimo 30 novembre ritireranno altrettante borse di studio riservate ai figli dei collaboratori che si distinguono negli studi scolastici e universitari per noi è qualcosa che va ben oltre le politiche di welfare aziendale ha dichiarato Francesco Basile direttore risorse umane di Bosch Bari è un impegno che perseguiamo da anni e che mette al centro i giovani le loro speranze, le loro paure e le loro esigenze per l'occasione abbiamo invitato la squadra di calcio Pink Bari vogliamo infatti utilizzare la metafora dello sport per trasmettere ai ragazzi valori quale passione, impegno, responsabilità e soprattutto allenamento e continuiamo a parlare di sport perché il presidente del CONI Giovanni Malagò è venuto in Puglia per omaggiare lo sport pugliese domani la prima giunta territoriale della storia nella nostra regione a Barretta invece l'inaugurazione della pista di atletica leggera a Pietro Menea quando si parla di finanza si parla di stelle esatto, questo è sicuro questo è un luogo di valori lo sport è valore oggi ho fatto una bellissima giornata in Puglia siamo partiti da Mesagna dove c'è un'eccellenza assoluta del Taekwondo questa meravigliosa palestra come si chiama? New March esatto da dove è nata poi la favola di Carlo Molfetta medaglia d'oro individuale di questa regione e ho un incontro con dei ragazzi che aspirano a poter entrare in un liceo sportivo abbiamo parlato di impianti al Politecnico domani facciamo giunta da 103 anni il CONI che è stato fondato non era mai venuto in Puglia penso che questo per questa regione sia tanto sia tanto assolutamente e poi andiamo a Barletta a rendere omaggio al più grande di tutti insomma a Pietro Mennea e insomma a quella pista dove è partita la sua leggenda il CONI l'ha rifinanziata con sport e periferie credo che sia un bel segnale non solo simbolico grazie pensiamo alla nostra rubrica Spazio Confindustria in studio quest'oggi Sergio Fontana il nuovo presidente di Confindustria Albania intervistato dall'Aerea del Vino Buonasera, bentornati al nostro spazio dedicato al mondo Confindustria oggi in compagnia di Sergio Fontana il nuovo presidente di Confindustria Albania l'associazione del sistema Confindustriale che rappresenta le imprese italiane nel paese, nella regione delle Aquile cosiddetta grazie per essere qui con noi grazie a voi è un piacere essere qui con voi allora dobbiamo un attimino fare il punto sono circa 50 le aziende italiane iscritte a Confindustria Albania paese che acquisisce sempre più importanza dal punto di vista imprenditoriale di mercato stanno crescendo noi prevediamo oggi sono arrivate già oggi a 60 in pochi mesi siamo partiti alle 50 il suo dato era giusto ma siamo arrivati a 60 imprese se prevediamo di arrivare entro fine anno ad 80 e nel 2018 di superare 120 imprese iscritte ci sono imprese di diverso tipo di diverso genere dalle piccole, medie, le grandi ci sono multinazionali che si sono iscritte nel sistema Confindustriale dell'Albania proprio perché la Confindustria è vista come una eccellenza come foriera di best practice di buone pratiche di collaborazione istituzionale con il mondo albanese ecco la regione l'Albania non rappresenta più una semplice occasione di delocalizzazione di prodotti a basso costo ma ha un vero e proprio sbocco finale dei prodotti made in Italy ha perfettamente ragione diversi anni fa si andava a produrre in Albania proprio perché c'erano le aziende per esempio manifatturiere moltissime aziende che facevano o biancheria intima o che facevano scarpe si erano delocalizzate e erano andate a produrre in Albania per il costo basso della manodopera oggi questa è una delle opportunità che abbiamo offerto di collaborazione ci sono ancora delle aziende che hanno una grande produzione in Albania però non c'è solo quello ci sono anche molte aziende che hanno voluto investire hanno creato delle nuove attività ci sono delle aziende che sono proprio nati in Albania e che stanno crescendo molto rapidamente in vari settori utilizzando l'Albania come proprio porta per i Balcani ecco proprio perché l'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania è importante anche sensibilizzare quella regione la cultura d'impresa assolutamente sì abbiamo il 31 ore, il 31 di ottobre abbiamo nei prossimi giorni abbiamo un incontro con il ministro dell'economia e abbiamo una collaborazione istituzionale ad altissimo livello la collaborazione, la partnership è eccezionalmente valida, è eccezionalmente positiva e io invito tutti gli imprenditori o tutte le aziende che volessero avere maggiore informazione sono in circa le opportunità che presenta il paese Albania perché sono veramente delle opportunità interessanti di contattarci di prendere contatti direttamente con noi per conoscerli approfonditamente perché sono opportunità che tra l'altro sono dal settore turistico che ora è quello che ha avuto più successo in questa estate c'erano moltissimi pugliesi che sono andati in vacanze in Albania trovando dei posti, dei costi bassi ma anche dei posti incontaminati molto belli molto piacevoli e poi noi pugliesi siamo visti in maniera estremamente positiva per quello che abbiamo fatto, ricordo la Vlora quando è arrivata qui da noi per l'accoglienza siamo visti in maniera estremamente positiva con Pugliesi grazie allora Sergio Fontana per essere stato con noi ci torneremo su questo argomento per adesso ci fermiamo, appuntamento a domani, una buona serata e per questa edizione è davvero tutto in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net vi ricordo inoltre che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda il nostro format Chiama De Caro in studio con Alessandra Bucci il primo cittadino saremo in diretta streaming anche sul sito telebari.it in diretta streaming anche sulla nostra pagina Facebook ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito Amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vi anticipo sarà fredda un po' in tutta Italia ma tutto sommato discreta anche se questo sistema nuvoloso in arrivo dal nord atlantico alla fine della giornata comincerà a portare un nuovo peggioramento al centro nord ma andiamo con ordine e vediamo la nuvolosità prevista sul nostro paese tutto sommato scarsa quanto meno nella prima parte del giorno saranno presenti ampie zone di sereno poi però col passare delle ore nubi in aumento al nord e sul medio alto tirreno come precipitazioni inizialmente nulla di particolare da segnalare dicevamo a inizio giornata cielo sereno poco nuvoloso però poi nel pomeriggio prime piogge tra Levante Ligure e l'Alta Toscana qualche goccia arriverà poi anche in Sardegna e a fine giornata piogge più diffuse sul medio alto tirreno in estensione poi anche alle regioni di nord est quindi in definitiva si partirà con cielo sereno poco nuvoloso però poi dicevamo piogge in arrivo sul medio alto tirreno in Liguria qualche pioggia verso fine giornata anche tra Lombardia orientale, Emilia e nord est e locali più vaschi nel nord della Sardegna per il resto ampie zone di sereno ma temperature che restano davvero bassine con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!